sull'affresco principale di questo la figura di la Madonna di un dronco bambino accanto agli angeli, accanto ai santi di Sebastiano e a Sadocco Sadocco è il protettore del paese di Petramelare il paese che confina l'orocamano qui vicino e nella iconografia tradizionale potete riconoscere San Sebastiano trafitto con le frecce in alto nella mezzaluna c'è il Padre Eterno in mezzo a due angeli nel lato di Penedire questo affresco è opera della scuola Cajatina ed è del 1500 è stato restaurato nel 2009 molto bella molto molto bella e le sede oggi della pubblica di San Sebastiano ma il restauro si rifà un po' quello che c'era? no, si rifà quello che c'era, sì un po' di più un po' di più che c'era la pubblica Grazie a tutti.